Ben Wolfers, come potete vedere siamo tornati sul Joket League, come sempre direttamente in classificata e questa volta con come sottofondo il nostro amico Ludovico Vann. Qui non si capisce bene cosa sta succedendo, sto soltanto che avevo rischiato di prendere un role idiotissimo. Ah, quello ha fatto bene ad aspettare. Stickman, ti vedo poco deciso, non so voi, ma lo vedo poco deciso Stickman. Bravo, ci è piaciuto questo, ci è piaciuto enormemente, che bella parata che ha fatto. Che errore che hai fatto tu invece? Grazie per il bel passaggio, ci voleva veramente proprio. Andiamo a vedere, tac, spettacolo. Io sono passato lì come se stesse andando, non so, a comprare il pane. Oh, ecco qua, una palla, la spingiamo in rete. 1-0 per noi dopo una trentina di secondi, ci va di gusto ragazzi. Meno buono è questo tiro, forse sì. Vediamo se lo riusciamo a superare. Buttiamola dentro, ah sì, speccato perché potrebbe essere goio, ma non fa niente ragazzi. Sì, vuoi dire che abbiamo fatto una bella azione, eh? L'avevamo superato. No, probabilmente andava fuori, ve lo diciamo per dire, dai. Che ci sta. Buono così, buono così. 2-0 in, boh, un minuto, nemmeno? A noi va benissimo. Qui ci penseranno i compagni a prenderla. Vai Stickman, scelgo te. Scherzavo. Tu non spera di mandarti in rete da solo con quel passaggio. Lo togli? Bravo. Vai Stickman. Crossala. Go Stickman go. Eh, niente da fare. Niente go Stickman go. Mamma mia, come ci siamo scontrati male. E qua quello abbi da sicuro. E altina? Di che sei altina? Ma non la colpiamo mai nella vita. Zippo, Ita! Vai Zippo! Micca te l'avevo visto. Avevo tanto solo lo Stickman finora. Uh, bella questa azione. Bella questa azione. Mamma mia, dall'altra parte. No, 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 no. Ah, che peccato. Non sono riusciti a anticiparlo. Becchiamoci stupo. Lì si stanno incasinando fra di loro. E a noi va benissimo così. Stavo un attimo in difesa. Ha giusto un pelo. Perché qua l'azione non si capisce dove va. Direi che va bene, dai. Eh, vai Stickman. Zippo? Cos'è sta pallina? Cos'è sta pallina? Ah, come ci siamo fatti buggerare pesantemente qua. Buono quel tentativo di rovesciata. Meno l'esecuzione. Ah, non siamo riusciti a colpirla. Che peccato. Cos'è questo favore? Bel tiro. Ma è di nuovo che lui prima che ha fatto la cazzata? Vediamo un po'. Qua stiamo a giocare con codici fiscali. Especamente. Z-Z-Me-K-E-K! Z-Me-K-E-K! E Stiltman segna. Uno così. Io resterei un po' lì indietro. E vediamo che succede qua. Oh, scusa, Stickman. Vai, Zippo. Mettici una palla in mezzo, Zippo. Facci sognare. Non ci fa sognare. No, 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 no. Tu da qua non ti muovi. Eh, piovono macchine rosse, piovono? No, l'ho lisciata! Ma porco, Giuda. Non avevo un buon angolo per colpirla. Ah, secondo me quello liscia. Lo dicevo che lisciava. Allora, qua dovremmo prendere l'imbalzo che non prendiamo. Bello suo tentativo di tiro, ma non va. Non va! E qua ti fermiamo con una bella sforbiciata. E superiamo anche tutti e due così. Eh, mamma mia che tutto salto che ho fatto. Eh, Stickman, questa volta non mi sei piaciuto. Via in difesa, via! Eh, mamma mia! Che salto brutto! Che brutto salto! Questo invece non è male, sapete? Questo non è male perché quello l'ha controllata pessimamente. Noi possiamo non prenderci il pubblico perché ha preso quello. Ma quello mo' si è incattato bene e quindi via. No, l'ha presa questa volta l'altro codice fiscale. Peccato. Serve una paratona? Non serve. Ma la respingiamo bene. Dai che siamo senza tubo. Stavamo autofassando la palla. In una maniera spettacolare. E te come ti piglio adesso? Così? Speravi! Volevi! E invece no. Dai ragazzi! Dai ragazzi! Sono qui! No, ce l'hanno fatta. Su, su. Riusciamo gentilmente a... Ah, come ci ha superato bene! Bravo Zippo! Bravo Zippo! No, qua possiamo scavalcarli. No, che bel intervento che ha fatto quello. E di nuovo? Questi sono questi interventi belli. Questo dovrebbe andare a impattarsi. Bellissimo tiro. Bellissimo tiro davvero. Guardate che cosa bella che ha fatto. Sare è alzata. E praticamente... Dov'è? Ah, ma ha tirato lui! Ma sapete che non ho vinto fosse stato Zippo stesso? Beh, direi che 4 a 0 a 16 secondi è al termine. Giochiamo con una certa tranquillitudine. Se vi incartate di nuovo e mi fate un favore... Arriva un passaggino? Arriva un passaggino? È arrivato adesso il passaggino. Quello che lo raccoglie... No, non la prendiamo! Peccato! Però è arrivata una vittoria che ci piace. Complessivamente ci piace questa vittoria. È stata una bella partita. Spero vi sia piaciuto. E se così è, lasciate un like, commentate e condividete. Ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie e alla prossima. Ciao!